Ciao ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video pensate che ce la copro un po' sporca oggi non volevo neanche vloggare però tant'è dato che sfrutto l'occasione di essere a Gambara hanno fatto la pista nuova è la prima volta che ci metto piede da 4 anni a questa parte e mi sembrava interessante portarvi con me nello scoprire una pista nuova sigla e poi entrammi in pista tra le altre cose prima di entrare ragazzi oggi guardate cosa ho dovuto rispolverare lo smanicato da endurista perché fa un freddo cane c'è un'aria incredibile un cielo che promette pioggia ho preso pure qualche goccia venendo in giù però incrociamo le dita e vediamo di portarla a casa adesso accendiamo il crossbox non mettiamo sul casco così si dice un po' le linee migliori da fare e niente andiamo a scoprire la pista nuova di Gambara che lui gira un po' non so se qua si fa lungo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.